Tutti quanti vi siete mascherati, giustamente c'è il decretino e uno lo attua, ma bisogna leggerlo per capirlo, ve lo leggo. Obbligo di portare sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie, che poi il dispositivo di protezione della vie respiratoria per me è una sciarpa, i peli del naso, me lo devi spiegare, mascherina, certificato di qualità ISO 9000, che ne so, qualcosa, dispositivi di protezione per me è una sciarpa, con possibilità di prevederne l'obbligatorietà dell'utilizzo anche nei luoghi all'aperto, con possibilità, ossia un'astrazione, di prevederne, altra astrazione, l'astrazione dell'astrazione, la possibilità di prevedere l'obbligatorietà, certezza, nell'utilizzo. Ma che cazzo hai detto? Cioè che cosa è scritto? La possibilità di prevedere l'obbligatorietà nell'utilizzo è una cosa che non ha senso in italiano, figuriamoci nel diritto, è una norma, è una non-norma, è una cosa che non vuol di nulla, a eccezione del fatto, c'è pure un'eccezione, attenzione, a eccezione del fatto che sia garantita la condizione, garanzia in questo caso, di isolamento rispetto a una persona non convivente, c'è pure l'eccezione, è una cosa che è inapplicabile. Come facci a rispettarla? Come fai a oppormi qualcosa rispetto a questo? Che cosa è il mio obbiettivo? Non ha senso, però ce lo spiega meglio lui, eh? Ah, se te lo spiega lui, senti. I dispositivi di protezione, d'ora in poi bisogna portarli con sé quando si esce di casa e indossarli. Indossarli. Indossarli in ogni caso, a meno che non ci si trovi in una situazione di continuativo isolamento. Ecco, faccio l'ipotesi, si vive in campagna, isolati, in quel caso si esce all'aperta e è ragionevole indossare la mascherina. Stai in montagna da solo e quello è il momento ragionevole per indossare la maschera. Ma che... che... no... Siamo alla retorica del diritto internetiano. Ci raccontano delle cose e tu visualizzi quello che ti hanno raccontato. Nella norma, nell'ordinamento giuridico, non c'è corrispondenza. È una cosa che esiste online, esiste in televisione. Però tutti mascherati. Buona giornata.